Buon venerdì, 4 febbraio da Radio 21 Aprile Web, buona giornata a tutte e a tutti voi. Tanto che attendiamo come sempre un paio di ripetizioni delle informazioni sulla storia, il tempo oggi peggiora, anche domani non sarà un gran che, ma dovrebbe migliorare domenica, e un sole anche velato, una notizia importante da ripetere, oggi sciopero a singhiozzo dei mezzi dalle 8 e mezza alle 12 e mezza, sono a rischio i trasporti ATAC, Roma TPL, anche la rete Cotral, Ciao al sapore di un libro, buongiorno, buona giornata, e anche nelle stazioni della metro che saranno aperte sono a rischio, probabilmente non utilizzabili, scale mobili, montascale e ascensori, che quello poi diciamocelo, sono sempre un po' a rischio, un po' in dubbio, non lo sai mai se riuscirai a prendere la scala mobile oppure no. Ci sono un paio di aperture, di mostre che sono interessanti, alla Galleria Ranica c'è la fotografica Confondersi di Lorenzo Cappelletti, il tema è Il nudo nel nudo, e alla Galleria Russo c'è l'esposizione di Arianna Matta, artista che si definisce neoromantica, ma anche digitale. E poi c'è una fotografica interessante, si chiama DOM, alle faccine fotografiche in via Giuseppe Libetta 1. DOM è dedicata alla vita in un piccolo paese del nord della Polonia, gli scatti sono di Stefano Mirabella. Una cosa che desidero segnalarti perché è decisamente interessante è la visita, ciao Court Memory, la visita alla Wunderkammer di Marco Lomuscio, si trova in via di Valle Cortena 75, c'è la niene che scorre sotto, e è veramente un'esperienza interessante e sorprendente perché c'è questa enorme collezione di oggetti che vanno dal Medioevo al XXI secolo, l'ingresso neogotico, la sala medievale con i leoni, ciao Ariafine Cicale, buongiorno, quindi dicevo, veramente ti cattura il pensiero e l'immaginazione per giorni interi, perché è una sorta di ricostruzione di quelle che erano le Wunderkammer, dei grandi, dei potenti che raccoglievano gli oggetti più strani, e Marco Lomuscio, che è il padrone di casa, indica tutto e vi spiega molto bene tutto, ma soprattutto quando la visita è finita, il maestro Marco Lomuscio, che collabora come compositore con la Harvard University e anche il collaboratore italiano di Steve Hackett, che è il chitarrista dei Genesis, si mette al pianoforte e offre questo bellissimo concerto, veramente un'emozione, posso dire, perché l'ho provata personalmente, un'emozione molto piacevole, molto bella e diversa sicuramente dal solito. Le info per prenotare sono sul sito Wunderkammer di Marco Lomuscio, dopo il concerto, che è il sabato e la domenica, dalle 17.30 alle 20.30, ovviamente bisogna prenotare, perché è una casa, quindi non è che i posti siano illimitati, dopo il concerto ho letto, questa è un'esperienza che invece non avevo fatto, che è possibile cenare all'Osteria Montesacro, che è lì vicino, e che offre anche uno sconto che, detto al genovese, non è mai male. Poi ti segnalo che per Schira è uscito a 12 euro un interessante libro di Costantino Dorazio, dedicato al Chiosso di Bramante e alla Santa Maria della Pace e alle Sibille di Raffaello. È un libro divulgativo, veramente una volta letto la Chiesa di Santa Maria della Pace e l'Annesso Chiostro non avranno più segreti per te. E poi c'è da mettere in agenda, almeno per me, ma consiglio anche a voi, di andare a visitare Forof. Forof è uno spazio ideato da Giovanna Caruso Fendi a Palazzo Rocca Giovine sul Forro di Traiano. Al suo interno ci sono i resti della Basilica Ulpia, che fu la più grande basilica di Roma imperiale e che fu disegnata da Apollo d'Oro di Damasco, che era l'archistare dei tempi di Traiano, non altrettanto amato da Adriano. Sai che si dice che Adriano l'abbia fatto uccidere, dato che Apollo d'Oro continuava a criticare malignamente i lavori architettonici di Adriano, che era invece innamoratissimi dell'architettura. Forof ha ospita attualmente l'Ovo Teach di Soundwork Collective, un gruppo di lavoro formato da artisti, scrittori, musicisti, filosofi, scienziati, che offrono in questo momento una grande installazione che arriva fino all'inizio dello spazio dove si trovano gli scavi, dura fino al 15 luglio, non ci sono ancora stata, ma ovviamente mi propongo di farlo al mio ritorno a Roma. Non ho guardato oggi i Google Trends, ma tanto non c'era niente da scoprire, perché ovviamente Sanremo piglia assolutamente tutto. Per la prossima settimana il piano editoriale di Radio 21 Aprile Web cambia, avremo la diretta solo tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato, e ogni venerdì avremo un'intervista. Quella che spero di poter postare per la fine di questa settimana è una bella intervista a Ilaria Rezzi, che è l'artista che sta esponendo in questo momento alla Galleria Fidia, lo farà fino al 10 di febbraio. La sua mossa si chiama The Last Up ed è una rivisitazione con i puffi dell'ultima scena, ma non solo di quello, cioè in realtà è un discorso portato in maniera leggera, ma abbastanza serio, ma decisamente serio, sul cambio dei nostri valori, insomma su come le cose cambiano, ma poi non cambiano mai. I puffi stanno nelle posizioni degli apostoli che conosciamo nell'ultima scena. E la settimana prossima programmo finalmente di poter postare l'intervista con Giuseppe Usani Descobar, che è il curatore di, tra l'altro, di alcune mostre di Eva Killer Dog, veramente un artista interessante. Spero che la giornata sia buona, come ho detto il tempo è brutto a Roma, ma vi posso dire che è brutto anche a Genova. Vi auguro buona fine settimana, ma noi ci vediamo domani mattina alle 8 e un quarto. Grazie di essere stati qui, buona giornata e dai che gliela famo.